Liberi o blindati, decide Speranza, le sorti del Molise nelle mani del Ministro della Salute deciderà se considerare la regione zona arancione o verde per le limitazioni per contenere i contagi. L'ordinanza attesa in giornata, ieri 26 nuovi positivi. Recovery Fund, scontro in consiglio, programmati interventi per 3 miliardi di euro dal governo regionale, l'opposizione contesta a scatola vuota i consiglieri esautorati da ogni scelta. La denuncia di una positiva, ci hanno dimenticati, una donna di pesca è chiusa in casa da un mese, in attesa da giorni del terzo tampone, ma nessuno risponde. A Iserni, anziana con sintomi in casa di riposo, ma il Cardarelli rifiuta il ricovero. Giornata delle Forze Armate, cerimonia ridotta. A Campobasso la deposizione della corona d'alloro al monumento dei caduti. Il sentimento di unità, dice il sindaco Gravina, aiuta a superare i momenti difficili. Sei calciatori positivi, sospesi gli allenamenti. Il Campobasso si ferma a causa del virus. Intanto la Lega di Lettanti ipotizza uno stop di 15 giorni per far disputare i recuperi per poi ripartire. Buon pomeriggio dalla redazione di Telemolisi. Dunque, inottata il Presidente del Consiglio Conte ha firmato il suo ultimo decreto, prevede ulteriori restrizioni per fronteggiare il coronavirus. Il provvedimento in particolare è quello che prevede il coprifuoco in tutta Italia dalle 22 alle 5, mentre è prevista la suddivisione del Paese in tre zone, verde, arancione e rossa, a seconda della gravità del rischio contagio. Il Molise dovrebbe andare nella zona verde, ma potrebbe finire anche in quella arancione. Tutto sarà deciso dal Ministro Speranza, che dovrà emettere un'apposita ordinanza che è attesa in giornata. Il decreto entrerà poi in vigore da domani e resterà valido fino al 3 dicembre. Ma sentiamo tutto da Anna Maria Di Matteo. La firma del Premier Conte sullo nuovo DPCM è arrivata tardanotte dopo un serato confronto con i presidenti delle regioni. Il provvedimento istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio di contagio da Covid a quale appartiene ogni regione. In sostanza l'Italia viene suddivisa in tre aree, verde, arancione e rossa, a seconda dello scenario di rischio. L'inserimento delle regioni nelle singole aree sarà stabilita nell'ordinanza del Ministro della Salute, che dovrebbe arrivare in giornata. Il DPCM contiene misure valide su tutto il territorio nazionale, come il coprifuoco, che scatterà dalle 22 alle 5. Sono consentiti gli spostamenti motivati da comprovate esigenze. Didattica a distanza al 100% per le scuole superiori. Nelle regioni in zona verde, la didattica per le scuole elementari e medie avverrà in presenza con uso obbligatorio di mascherine, sospensione di concorsi ad esclusione di quelli per il personale sanitario, sospese, mostre e servizi museali. Chiusure nei giorni festivi e prefestivi dei centri commerciali, ad eccezione delle farmacie e punti vendita di genere alimentari, tabacchi ed edicole, capienza massima dei mezzi pubblici fissata al 50%. Queste misure sono valide per le regioni inserite nella zona verde. Quell'arancione prevede ulteriori restrizioni. È vietato ogni spostamento in entrate e in uscita dal territorio, salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità. Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di residenza. Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, resta consentita la sola ristorazione con consegne a domicilio, nonché fino alle 22 quella da asporto. A questo quadro si aggiungono ulteriori restrizioni per le zone rosse che presentano uno scenario di massima gravità. C'è il divieto assoluto di ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio. Sospese le attività commerciali al dettaglio, fatte eccezione per quelle di vendita di genere alimentari di prima necessità. Chiusi i mercati, restano aperte edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, ma anche i barbieri, parrucchieri ed estetiste e lavanderie. Sospese le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticceria consentite la ristorazione con consegne a domicilio entro le 22. Sospese le attività sportive anche all'aperto, attività didattiche in presenza solo per la scuola dell'infanzia, elementare e prima media. Il Molise dovrebbe essere inserito tra le regioni della zona verde, anche se, come ha precisato il governatore Toma, è necessario attendere l'ordinanza del Ministero della Salute. Le disposizioni contenute nel nuovo decreto entreranno in vigore domani e avranno validità fino al 3 dicembre. Dunque per la scuola sempre più didattica a distanza, il Ministro dell'Istruzione, Lucia Azzolina, ha firmato un decreto che assegna alla scuola 85 milioni di euro proprio per la didattica digitale integrata, stanziati dal decreto di storia del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre. Al Molise sono state assegnate risorse per oltre 481 mila euro, ripartite su 52 istituti. I fondi serviranno per l'acquisto di dispositivi digitali e strumenti per la connessione da fornire incomodato d'uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti. come Ministero ha detto la Azzolina non abbiamo mai smesso in questi mesi di investire sul digitale, continueremo a farlo. Abbiamo messo risorse su tablet, pc, connessioni, ma anche sulla formazione dei docenti e del personale. E adesso vediamo gli ultimi dati sulla diffusione del Covid in Molise. C'è una battuta d'arresto dei contagi nelle ultime ore. Sono stati 26 nuovi positivi, 27 guariti nella giornata di ieri. Facciamo il punto nel prossimo servizio. Dopo giorni e giorni segnati da quasi 100 contagi quotidiani, finalmente una battuta d'arresto del Covid in Molise. Nell'ultimo bollettino ASREM, con 724 tamponi processati, ci sono più guariti che nuovi malati. 27 i pazienti che sono guariti, 26 invece i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Nel dettaglio ecco la mappa dei nuovi casi. 6 a Boiano, 5 a Riccia, 4 a Isernia, 3 a Campobasso, due casi ad Agnone e Termoli, un solo caso a Ferrazzano e Poggio Sannita. Ci sono poi due tamponi positivi su pazienti residenti fuori regione, a Gallo Matese e Serra Capriola. Quanto ai ricoveri in ospedale, sono sei pazienti arrivati nelle ultime ore a Cardarelli, quattro invece quelli dimessi. Con il quadro attuale resta sotto controllo la situazione della terapia intensiva. Ci sono sette ricoverati. Attualmente viene utilizzato in regione il 20% dei posti disponibili. Veniamo ora all'andamento del virus dall'inizio dell'emergenza. 62.366 i tamponi processati. Gli attualmente positivi sono 1.258. 2.016 i casi totali in otto mesi. 35 i ricoveri in ospedale. 35 i pazienti con sintomi. Gli asintomatici sono 1.223. 717 i guariti, 41 i pazienti deceduti. Intanto in regione c'è anche il primo sindaco positivo al coronavirus e il sindaco di Morrone del Sannio, Antonio Colasurdo. È stato lui stesso a renderlo noto, precisando di essersi messo in isolamento dopo i primi sintomi. Ha poi deciso la chiusura della sede comunale con l'isolamento fiduciario di tutti i dipendenti e ha fatto eseguire la sanificazione del municipio e dell'ambulatorio comunale. Quanto ai cluster più numerosi, oltre a quello del carcere di Larino, resta preoccupante la situazione nelle case di riposo. Oltre 100 contagiati tra Oratino, Sessano, Isernia, Vinchiaturo e Porto Cannone. Particolarmente delicata la situazione di Oratino, dove dopo che il sindaco lo scorso 25 ottobre aveva disposto un cordone sanitario che blindava la struttura con divieto di entrate e di uscita, due soli operatori sono rimasti per nove giorni consecutivi senza nessun turno di riposo ad assistere 11 anziani e tra questi nove malati di Covid. La situazione all'interno è poi peggiorata, due anziani sono deceduti, un altro si è aggravato. La cooperativa e il sindaco, ha riferito il presidente della casa alloggio, Giovanna Di Soccio, hanno segnalato la situazione a tutte le autorità locali, ma non hanno ricevuto risposte. I due operatori però intanto non erano più in grado di sostenere quanto stava accadendo, né fisicamente né psicologicamente. Uno dei due in particolare ha avuto un crollo psicofisico proprio a tutela dei lavoratori e degli anziani ospiti e dopo una denuncia di autotutela ai carabinieri e una lettera al sindaco per comunicare il cambio degli operatori, la struttura ha provveduto ad un avvicendamento del personale all'interno della casa. Vogliamo sottoporre all'attenzione delle autorità competenti, ha detto la responsabile della struttura, la situazione delle case per anziani che si prendono cura di persone fragili e che necessitano di assistenza continua, chiediamo che vengano emanate delle linee guida che consentano a queste strutture di poter continuare ad operare in piena sicurezza. E a Civitanova del Sannio è stata riscontrata la positività di una maestra. La sindaca Roberta Ciampittiello ha provveduto a chiedere temporaneamente la primaria e la secondaria, arriva attivate la didattica a distanza e predisposte tutte le procedure di sicurezza e sanificazione. Anche a Campomarino la positività di un alunno all'istituto comprensivo e per questo scuole chiuse fino al 7 novembre. Fino alla stessa data chiuse anche le scuole a Colli al Volturno, Fornelli e Montaquila. E adesso c'è una notizia che ci è appena arrivata e che riguarda la Fiat di Termoli perché stamattina si è riunito il comitato esecutivo di FCA. L'azienda ha informato i sindacati sul numero complessivo dei casi di positività al Covid. Ad oggi i casi accertati in Fiat sono 7, di cui 4 da lungo tempo. Non presenti dunque in stabilimento da oltre 20 giorni. I restanti 3 appartengono a queste aree. Manutenzione cambio M40, montaggio FIRE, un impiegato montaggio motore GSE. Tutte le aree sono state sanificate. Una volta a settimana ci sarà l'aggiornamento dei casi a comunicarlo. È stata poco fa la Wilm. Adesso parliamo del Consiglio regionale che si è riunito per parlare di Recovery Fund. A fine seduta colpo di scena con il presidente Toma che annuncia 45 progetti per complessivi 3 miliardi di euro a valere proprio sul Recovery Fund. Insorgono le opposizioni. Il nulla, secondo la capogruppo del PD, Michela Fanelli, che rimarca l'ennesima estromissione del Consiglio dalla fase di programmazione. Sentiamo Pasquale Di Bello. Passa in regione una mozione trasversale presentata dal PD e condivisa da parte della maggioranza per l'utilizzo dei fondi MES in funzione di un rafforzamento e ristrutturazione del sistema sanitario regionale soddisfazione espressa dalla capogruppo Fanelli. Siamo molto preoccupati della situazione sanitaria e interpretiamo il sentimento di tutti i cittadini, soprattutto dei molisani, rispetto alla pandemia. Questo comporta un'esigenza, il massimo degli sforzi per rinvenire risorse, per fare interventi sugli ospedali, sulla rete territoriale, per migliorare i medici, per migliorare le condizioni di tracciabilità che riguardano la sanità per l'epidemia, ma anche nelle condizioni ordinarie. Sappiamo quante difficoltà abbiamo a garantire il diritto alla salute. Ed è per quello che il MES, a giudizio nazionale del Partito Democratico e anche nostro, può essere un polmone finanziario urgente, utile, nelle condizioni finanziarie date, non troppo svantaggioso. Ed è per quello che abbiamo proposto la discussione in Consiglio regionale. Dopo una giornata dal Libro Cuore, però trascorsa sul registro della mozione degli affetti tra maggioranza e opposizione, scoppia a fine Consiglio la bagarra. Scatenare l'ira delle opposizioni è stato l'annuncio fatto dal Presidente Toma relativo alla predisposizione di 45 progetti per complessivi 3 miliardi di euro a valere sul recovery fund, un atto che, secondo le voci critiche, ha espropriato il Consiglio regionale dal ruolo di programmazione a lanciare il duro jacuzze proprio la capogruppo del PD in regione, Michela Fanelli. Il pericolo principale, secondo Fanelli, è quello di restare a bocca asciutta, ovvero senza alcun finanziamento. Sostanzialmente siamo di fronte ad una scatola vuota, dice l'esponente del PD. C'è stato un colpo di scena a fine giornata perché in realtà il Consiglio era monotematico proprio sull'utilizzo del recovery fund. Che cosa è successo? Cosa avete scoperto? Su recovery fund abbiamo scoperto che il Presidente, i suoi uffici, neanche la maggioranza o i consiglieri di maggioranza, per non parlare ovviamente del Consiglio, che è il soggetto istituzionalmente deputato alla programmazione, erano stati completamente esautorati. 45 progetti per 3 miliardi abbiamo appreso ieri a fine seduta in dichiarazione di voto che sono la proposta del Molise al Governo nazionale per il recovery fund. Una follia, un libro dei sogni che chiaramente chiedendo tutto porterà il Molise a non avere nulla. degli interventi che il Molise doveva proporre dovevano essere pochi, individuati, concertati col partenariato e con il Consiglio per poter essere accolti a loro. Facciamo il contrario, uno spezzatino, inutile, con progetti ritirati fuori per lo più dai cassetti. Per quello che il nostro non è solo un tornare a dire ridate centralità al Consiglio e al partenariato sterile e formale, ma perché possiamo decidere progetti che servono, non progetti che non passeranno. o magari proporne altri. Il Consiglio ha due facce. Chi sta decidendo di assecondare Toma e la sua politica folle che prevederà uno schianto e chi sta tentando di far ragionare il deciso repubblico regionale in uno con quello nazionale e in uno col territorio. Indiscrezioni trapelate dalla Regione parlano di un possibile ricorso di parte del Consiglio al prefetto per violazione dello statuto regionale e pensare che la giornata era iniziata tra abbracci seppur virtuali visti i tempi che corrono. E intanto proprio il Partito Democratico chiede la rimozione del direttore generale dell'ASRE Moreste Florenzano ad avanzare la richiesta con una nota e il segretario regionale del partito Vittorino Facciolla alla base dell'iniziativa quello che secondo il PD sarebbe un fallimento su tutta la linea di contrasto all'emergenza pandemica sia da parte del direttore generale dell'azienda sanitaria sia da parte del presidente Toma in particolare dal PD si punta l'indice sui tempi di realizzazione dell'ospedale Covid inaccettabile il termine di realizzazione della struttura stimato in 4 mesi nel frattempo dice ancora Facciolla i mesi più difficili dovranno essere gestiti con questo assetto organizzativo che ha già dimostrato incredibili lacune e falle di ogni genere e ci sono ritardi nei tamponi di controllo è una denuncia che arriva da Isernia dove numerose persone positive al Covid restano chiuse in casa in attesa di un secondo test di controllo che non arriva tensione anche alla casa di riposo Maria Gargani dove una donna anziana in gravi condizioni resta in attesa di ricovero a Campobasso ci dice tutto Enzo Di Gaetà chiuse da un mese in casa in attesa del secondo tampone di controllo sono decine le persone di Isernia e provincia che in questi giorni stanno facendo sentire la loro voce dichiarando di essere state abbandonate da tutti con i telefoni dell'ASREM che squillano senza alcuna risposta e con la totale assenza di contatti o assistenza di ogni tipo tra loro studenti docenti lavoratori vari e con loro le rispettive famiglie anche esse chiuse in un limbo in attesa di una risposta che non arriva una situazione esplosiva in sostanza tutti i positivi asintomatici o pauci sintomatici hanno l'obbligo di restare nelle proprie abitazioni in attesa di un secondo tampone di controllo che possa certificarne la guarigione tecnicamente il tampone dovrebbe essere seguito dopo un paio di settimane al massimo ma accade che i giorni passino ben oltre i limiti previsti ci sono poi i familiari dei positivi anche loro in attesa di un tampone che non arriva centinaia di persone restano così recluse tra quattro mura in conclusione c'è tensione ci sono proteste e c'è l'impressione di una macchina sanitaria e burocratica che fatichi a reggere l'urto con la seconda ondata dell'epidemia da covid-19 almeno in provincia di Isernia dove c'è un solo punto per i tamponi all'ospedale di Venafro contattati informalmente da Venafro rispondono che le segnalazioni per i tamponi di controllo sono state inviate a Campobasso ma senza risposta tanto che ne sono state inviate di nuovo almeno una cinquantina e passiamo all'altra emergenza conclamata quella della casa di riposo Maria Gargani di Isernia lì dove ci sono 47 positivi tra ricoverati e personale che sono imprigionati senza possibilità di uscire ieri ad una nonnina di 91 anni in crisi respiratoria è stato negato il ricovero oggi è stato di nuovo chiesto ma gli operatori arrivati sul posto hanno verbalizzato come potete vedere nelle immagini del referto che nel reparto infettivi di Campobasso al momento non c'è posto e questa è forse la notizia più preoccupante di tutte alla luce della rapida evoluzione della pandemia anche in Molise e adesso vediamo proprio la testimonianza di una delle pazienti positive al coronavirus che restano reclusi in casa in attesa di un tampone a Telemolise e lo sfogo della donna che dice siamo abbandonati da tutti vediamo questa intervista la storia di Alida è quella di tante persone che hanno avuto la sfortuna di incrociare il covid nella loro vita Alida è una giovane mamma che vive a Pesche che è risultata positiva quasi un mese fa a Telemolise racconta come ha vissuto le ultime settimane ho scoperto di essere positiva il 10 ottobre ho fatto il primo tampone ho avuto il risultato lunedì di essere positiva chiamata dalla ASL quindi mi è stato detto comunque di rimanere in casa isolata dalla mia famiglia io ho due bimbi mio marito ho deciso di mandarli dai nonni perché loro erano risultati negativi e quindi ho preferito allontanare la mia famiglia da me e restare isolata da sola dentro casa poi rifaccio il tampone il 20 ottobre anche esso riesce positivo vengo posta di nuovo in isolamento per altri 10 giorni e mi viene riprogrammato il tampone il 30 ottobre oggi sono a 4 novembre e del mio tampone del 30 ottobre ancora non ho notizie ho chiamato dappertutto ASL Termoli Campobasso Isernia che non ha mai risposto in questi 25 giorni alle mie chiamate mai 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 senza essere nemmeno ricontattata Alida chiede ora risposte alle autorità e in lacrime quando racconta del suo lungo isolamento e della sensazione di abbandono siamo abbandonati nelle nostre case abbandonati segregati nelle nostre case perché noi non possiamo uscire di casa perché se ci ferma qualcuno noi veniamo multati come giusto che sia perché il covid esiste però non è giusto che noi siamo abbandonati dentro le case senza avere delle risposte io sono lontana dalla mia famiglia da oggi da 25 giorni non vedo i miei figli da 25 giorni e quindi non è giusto tutta questa situazione che stiamo vivendo perché non solo abbiamo il covid e io sono d'accordo perché esiste ma siamo abbandonati psicologicamente delle risposte non ci vengono date non ci viene detto come dobbiamo muoverci né dalle forze dell'ordine né dalla questura che ieri ho chiamato tutti quanti ti sbattono da una parte e l'altra senza avere delle risposte quindi a nome di tutti perché non sono l'unica che è chiusa dentro casa ad aspettare delle risposte che non abbiamo chiedo a chi di dovere di darci delle risposte perché da decreto ci viene detto che dopo 21 giorni noi potremmo uscire dalle nostre abitazioni ma così non è vero ci viene detto che non è vero dalle forze dell'ordine ci viene detto che noi non possiamo uscire se non abbiamo un tampone negativo quindi non so a chi dobbiamo fare affidamento a chi dobbiamo rivolgerci per avere delle risposte ci sono proteste a Iserni anche per la richiesta da parte del comune dei pagamenti del consumo dell'acqua del 2018 e del 2019 cumulati tra loro un'altra stangata per gli Isernini oltretutto le richieste arrivano con raccomandata bisogna anche fare file all'esterno delle poste vedete le immagini causa covid sotto il controllo della polizia le immagini sono state girate oggi a Isernia e andiamo adesso sulla costa perché nel decreto Ristori ci sono misure a favore della pesca ha previsto un contributo a fondo perduto la soddisfazione viene espressa da Domenico Guidotti di Federco Pesca un ottimo risultato ora però servono tempi rapidi il servizio è di Andrea Nasillo nel decreto Ristori approvato dal Consiglio dei Ministri sono inserite anche le imprese di pesca tra i settori danneggiati dalle misure restrittive anti covid in particolare è previsto un contributo a fondo perduto per le realtà operanti nelle filiere agricole della pesca e dell'acquacultura la somma verrà erogata dall'Agenzia delle Entrate previo decreto del Ministero competente un ottimo risultato a cui hanno lavorato dichiara Domenico Guidotti di Federco Pesca Molise tutte le associazioni di categoria per permettere a tutti gli armatori di attenuare gli effetti della crisi che vede la contrazione delle vendite del pescato è inoltre prevista un'altra misura in aiuto al mondo della pesca l'esonero del versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il mese di novembre 2020 e ulteriori sei settimane di cassa integrazione per i marittimi imbarcati una serie di misure continua Guidotti che finalmente riconoscono il contributo determinante che il settore ha garantito alle famiglie nei mesi di pandemia ci auguriamo ora che il Ministero delle Politiche Agricole conclude Guidotti predisponga in tempi brevissimi il decreto che stabilirà le modalità di accesso al fine di erogare i contributi con la massima celerità e adesso la cronaca sono stati arrestati cinque autori delle intimidazioni all'azienda Molisana Trasporti avvenuti all'inizio del 2015 a Guardiareggia l'operazione è stata eseguita dai carabinieri del ROS di Bari furono esplosi sei colpi di arma da fuoco contro una vetrata dell'azienda e poi fu incendiato un mezzo pesante determinante contributo alle indagini dei carabinieri della compagnia di Boiano che dopo un anno di lavoro avevano individuato gli autori degli atti intimidatori il fascicolo era confluito poi in un'attività più ampia della direzione distrittuale antimafia di Bari è scattato così in questi giorni un maxiblitz con complessivi 49 arresti in cella sono finiti mafiosi foggiani ma anche funzionari regionali professionisti intermediari di clan con le accuse a vario titolo di riciclaggio estorsione illecita concorrenza con minaccio violenza sequestro di persone molto altro quanto agli autori dell'estorsione avvenuta in Molise avevano costretto i titolari dell'azienda a versare 150 mila euro scesi poi a 50 mila dopo l'ingresso nel partito di Michele Iorio che segue a quello di Massimiliano Scalabeo aderisce a Fratelli d'Italia anche l'ex consigliere ed assessore regionale Tonino del torto siamo soddisfatti ha commentato il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro per l'adesione di una persona seria e competente con un'esperienza politica e amministrativa di lungo corso siamo convinti aggiunge che potrà contribuire alla crescita di Fratelli d'Italia in Molise aiutandoci soprattutto a definire i nostri programmi e le proposte con equilibrio e con le giuste strategie soprattutto in tema di lavoro e di turismo e adesso parliamo della giornata delle forze armate dell'unità nazionale celebrata in tutto il Molise quest'anno in forma ridotta per via delle misure anti-covid a Campobasso cerimonia con tutte le massime autorità della città e della regione sentiamo Giovanni Di Tota Sentirsi uniti come nazione serve a superare i momenti difficili lo ha dichiarato in apertura del suo discorso il sindaco di Campobasso Roberto Gravina nel corso della cerimonia di questa mattina al monumento dei caduti nel giorno dell'unità nazionale della giornata delle forze armate le note dell'inno nazionale del canonico silenzio d'ordinanza hanno fatto da cornice ad un rito sobrio e meno partecipato a causa dell'emergenza sanitaria ma il sentimento di appartenenza alla patria come era avvenuto nei mesi del lockdown emerge proprio nei momenti più difficili e con esso un insospettabile senso civico della stragrande maggior parte degli italiani a questi hanno fatto riferimento le parole del sindaco la giornata di oggi ha detto Gravina ci riporta all'essenza di ciò che vuol dire essere italiani superare ogni divisione ha aggiunto non vuol dire omologarsi al pensiero unico ma ribaltare insieme una situazione di assoluta emergenza che rischia di provocare altre profonde lacerazioni nella società e nel sistema economico ad accompagnare il paese in questo percorso ha concluso il sindaco di Campobasso c'è la certezza che ci saranno sempre accanto le donne gli uomini delle forze armate che hanno mostrato di sapere agire avendo bene in mente prima di ogni altra cosa il valore dell'unità della nostra repubblica con il sindaco hanno partecipato alla cerimonia il presidente della regione Donato Toma il prefetto Maria Guia Federico e le autorità delle forze armate di polizia ai piedi del monumento ai caduti è stata deposta una corona da loro sempre più apprezzati anche fuori regione i vini molisani che ormai da tempo si sono ritagliati uno spazio preciso nel mercato italiano ed estero il Don Luigi del 2016 della cantina di Maio Norante di Nuova Cliternia ha ottenuto tre bicchieri dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso è il voto più alto degli esperti di una delle guide più autorevoli del settore riconoscimento internazionale per l'eroica la tintilia 2015 della cantina Erero di Toro è invece arrivato da Londra dove ha ottenuto la medaglia d'argento al Decanter World Wine Awards un'asta considerata tra le più importanti del settore cambiamo argomento l'associazione Pacioc scalda i motori arriva il taxi clown d'intesa con l'Avis protezione civile che abbraccia la terapia del sorriso e promuove il nuovo servizio che scorta piccoli pazienti e anziani ricoverati vediamo lì che si tratta con Tonino Danese distrarre con un sorriso bambini adolescenti e anziani in quello che sicuramente non è un percorso facile il tragitto da casa all'ospedale per chi si ricovera o alle case di riposo renderlo meno lungo e faticoso è l'obiettivo del taxi clown il camper che l'associazione Pacioc Onlus mette a disposizione di piccoli pazienti e anziani che per motivi diversi devono ricoverarsi un mezzo colorato con adesivi e peluche una sorta di taxi sanitario il nuovo servizio dell'associazione di clown terapia realizzato d'intesa con l'Avis protezione civile la volontà è applicare i principi della clown terapia nata per alleviare lo stato d'ansia e la sofferenza e migliorare anche la funzionalità del sistema immunitario il personale del taxi clown fanno sapere i promotori dell'iniziativa è sottoposto a controlli sanitari ed è munito di dispositivi di protezione inoltre sul camper è installata una sirena lampeggiante che ne segnala il passaggio il taxi clown grazie alla disponibilità della polizia stradale può circolare anche in caso di limitazioni imposte dal governo per contenere l'emergenza covid l'associazione di clown terapia ha comunicato che è in programma un tour che da Campobasso toccherà altri centri molisani per poi fare tappa in molte regioni italiane l'avis protezione civile ha subito condiviso le nuove iniziative della pacioc onlus unendo così le forze in un accordo di collaborazione per rendere le azioni di sostegno ai cittadini ancora più concrete e significative è stato spiegato chiudiamo con un appuntamento del nostro palinzesto alle 21 stasera il settimanale di attualità cultura approfondimento millibar la puntata sarà dedicata alla città di Termoli un quadro di insieme tra attualità e prospettive future in studio con Pasquale Di Bello il sindaco della città Francesco Roberti e l'opinionista Antonio D'Ambrosio bene io vi lascio alle previsioni del tempo poi come sempre il nostro telegiornale sportivo buon poveriggio a più tardi 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 a più tardi